Mi chiamo Anna Maria Bernadette Cristian e vorrei fare un saluto in musica a tutti gli amici del Festival di Bellagio e del Lago di Como. Con questo brano musicale, il preludio della prima sfidio a Sebastian Bach, vorrei augurarvi un buon Natale e felice sereno 2021. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.